Torna l'appuntamento con la Messa celebrata anche nella lingua dei segni, voluto questa iniziativa dalla Diocesi di Andria. L'appuntamento è per domani alle ore 18 nella Chiesa della Madonna di Pompei e la Messa sarà trasmessa in diretta da Teledeon. Domani, domenica 22 dicembre, sarà celebrata alle ore 18 nella Chiesa Madonna di Pompei ad Andria la Santa Messa tradotta nella lingua italiana dei segni. L'iniziativa è promossa dall'ufficio catechistico diocesano, finalizzata a porre gli audiolesi nelle condizioni di partecipare attivamente alla celebrazione domenicale. Sono milioni le persone sorde in tutto il mondo, spiega Don Gianni Massaro, direttore dell'ufficio. Purtroppo non sempre ricevono i dovuti aiuti e strumenti per poter incontrare il Signore e partecipare in maniera attiva alla vita della comunità cristiana. È un'esigenza pastorale allora che richiede sensibilità per esprimere concretamente l'attenzione dovuta a tutti. L'iniziativa, ricorda Don Gianni Massaro, in linea con le indicazioni del Vescovo di Andrea Monsignor Luigi Mansi, vuole essere un gesto concreto perché cresca la sensibilità per una pastorale sempre più accessibile e la Chiesa locale diventi realmente una comunità inclusiva nella quale ci sia posto per tutti e tutti possano sentirsi pienamente integrati. Negli orientamenti per la Catechesi incontriamo Gesù. I Vescovi italiani invitano infatti a rafforzare e diffondere nelle diverse diocesi la cura di percorsi catechistici inclusivi per persone che presentano disabilità, assicurando nel contempo che possano realmente partecipare alla liturgia domenicale e testimoniare attraverso la loro condizione il dono e la gioia della fede, perché l'appartenenza piena alla comunità cristiana sia effettiva. La celebrazione eucaristica, tradotta nella lingua dei segni, sarà trasmessa in diretta su Teledeon a partire dalle ore 18.